Di Lao Xiaomin resterà scolpita nell'immaginario collettivo cinese la grande stanza di uno dei suoi appartamenti imbottita di 200 milioni di yuan in contanti, del peso di circa 3 tonnellate, mostrata in un documentario a inizio anno dalla TV statale CCTV, parte di una serie dedicata a 5 casi clamorosi di corruzione. Economista di formazione, Lai è stato per anni il potente presidente di China Huarong Asset Management, uno dei quattro colossi di gestione di crediti deteriorati, trasformato in un feudo privato. Martedì ha confessato gli addebiti contestati gli all'apertura dell'udienza dinanzi alla Second Municipal Intermediate People's Court, di Tianjin. Ha ammesso di aver preso mazzette e di essersi appropriato indebitamente di risorse per 260 milioni di dollari, nell'attività svolta negli ultimi dieci anni da civil servant. Lai ha anche riconosciuto la bigamia e il mantenimento di due figli illegittimi, parte di un profilo criminale tracciato già due anni fa dal lavoro dell'anticorruzione, gettando le basi per la definizione, affibbiategli, di più corrotto tra i corrotti. Le indagini avevano fatto emergere che Lai, 58 anni ed ex capo del Dipartimento di Supervisione Bancaria della Banca Centrale Cinese, aveva tra l'altro usato le risorse, accantonate in numerosi conti correnti bancari, per favoraggiare e mantenere oltre 100 amanti, molte delle quali assunte nel gruppo che presiedeva.